Nasce qui alla Comune di Pescara un'iniziativa nuova rivolta ai bambini appena nati e alle famiglie. Di cosa si tratta? Si tratta dell'iniziativa Benvenuto ai nuovi nati che il Comune di Pescara ha voluto in particolare attraverso il settore delle politiche sociali portare avanti incontrando mensilmente i nuovi nati con le loro famiglie in una cerimonia che oggi viene presentata ma che parte dal 14 febbraio prossimo e ogni mese sarà ripetuta per i nuovi nati del mese precedente. Con questa iniziativa vogliamo manifestare innanzitutto la nostra vicinanza alla comunità cittadina e in particolare ai nuclei familiari che vivono un momento così speciale e così particolare. Vogliamo anche prendere l'occasione per raccontare quali sono le iniziative che il Comune di Pescara fa a favore della famiglia, a favore dei minori e a favore degli adulti che hanno a che fare con il mondo dei minori. Per la valigetta donata ai primi nati e quindi alle famiglie che consiste? La valigetta consiste in una serie, un kit completo di prodotti, prodotti di prima necessità appunto al neonato e soprattutto anche alla mamma e vogliamo donarlo naturalmente alla città e abbiamo risposto presente alla richiesta della dottoressa e alla comunità intera della città di Pescara. Grazie.